buongiorno a tutti allora 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 dopo parleremo della nazionale italiana e della giornata di ieri delle qualificazioni per i prossimi europei ma adesso magliettina del gigione come sempre perché c'è la frase mitica che ormai siamo già domenica tra poco altra maglietta ma per il momento vi beccate questa che mi piace tanto detto questo andiamo a vedere le gare che si disputeranno oggi a partire dalle 15 kazakhistan irlanda del nord partita da aiuto aiuto arriva il lupo 1-2 e passa la paura poi faranno un pareggio 0-0 buono di merda ma vabbè proviamo l'1-2 questa sinceramente non ve la consiglio poi c'è il derby del nord finlandia danimarca 2 voglio puntare su erinx and company isole farer moldova altra partita da aiuto aiuto arriva il lupo anche qui mettiamo un bel 1-2 perché francamente sì le isole farer sono leggermente favorite ma equilibrio totale proviamo l'1-2 montenegro in bulgaria questo 1,71 mi acchiappa quindi proviamo un bel 1 fisso albania polonia dopo che la polonia fatto curucu nell'ultima partita i bookmaker non è che si fidano molto quindi partita che comunque vede la polonia favorita ma c'è un 2-25 sul 2 che è altino quindi qui metterei mi arrischio l'x2 sperando che la polonia non riesca a fare il miracolo al contrario di perdere in albania comunque proviamo l'x2 che comunque ha una quota penso abbastanza interessante adesso ve lo dico se riesco a spostare il cosino allora l'x2 è data 1,31 che non è malaccissimo poi c'è la partita scontatissima che non si può giocare perché ha 1,01 francamente cosa giochi a fare che è grecia gibilterra 1 poi c'è irlanda olanda 2 lituania serbia 2 e san marino slovenia al 2 non si può giocare praticamente c'è il lucchetto sopra potete giocare l'1 di san marino dato a 46 o l'x dato a 14 che francamente è abbastanza ridicolo c'è un over 2 e mezzo ma ne parleremo magari dopo ma credo che ci sarà solo l'over 2 e mezzo perché ah no c'è anche l'over 3 e mezzo ma ne parliamo dopo comunque abbiamo finito l'elenco delle gare di oggi o troppo scontate o troppo incasinate non c'è la via di mezzo ragazzi non c'è la via di mezzo nelle gare di oggi o sono incasinate o sono scontate o quasi proseguiamo proseguiamo con la schedina alternativa allora kazakistan irlanda del nord qua il gigione si arrischia ma è un rischione l'over 2 e mezzo a 260 perché la quota è allettante ma è difficile finlandia danimarca over 2 e mezzo a 205 isole faror moldova io qua mi arrischio un bel gol a 210 magari finisce 1 a 1 anche se ho messo l'1 2 però magari finisce 2 a 1 1 a 1 eccetera eccetera mi auguro non uno squalido 1 a 0 0 a 0 che mi cadono i maroni e non vi dico dove rimbalzano proseguiamo con montenegro bulgaria qui vado di over 2 e mezzo a 235 anche questo è rischiatissimo rischio albania polonia gol dato a 1 e 90 ci piace ci piace molto grecia gibilterra ragazzi miei allora grecia gibilterra l'over 2 e mezzo è data a 1 e 20 l'over 3 e mezzo è data a 1 e 55 rischiamo l'over 3 e mezzo a 1 e 55 ma sarà molto molto difficile poi magari esce anche perché gibilterra è una squadra un po come andorra che uno dice meno una squadra materassabile eccetera sì ma contro le big quando affronta le squadre di media grandezza come può essere la grecia che sta cercando piano 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 di risalire la china e fanno fatica a farle perché si mettono lì in difesa e quando trovi il muro trovi il pullman davanti alla porta o segni subito e allora poi la partita ti si apre e magari di gol ne arrivano ancora o se no fai talmente tanta fatica che magari il gol lo riesci a fare sì ma intorno all'ottantesimo poi non è più perché ti sei sbattuto per segnare finalmente sto gol e ti accontenti irlanda olanda irlanda olanda vado di over 2 e mezzo dato a 1 e 77 poi per i coraggiosi che magari vogliono rischiare un bel over 3 e mezzo dato a 2 90 però è un po rischioso ragazzi lituania serbia invece mette un bel gol perché la lituania il golletto magari te lo fa poi la serbia gliene fa due o tre però magari il golletto te lo fa e infine concludiamo con san marino slovenia che proviamo appunto sto over 3 e mezzo dato a 1 e 67 vedremo se la slovenia riesce a fare quattro gol a san marino la vedo difficile però se no non lo giochi cioè non non ha senso giocare l'over 2 e mezzo a 1 e 25 cioè poi se volete giocarlo perché vi serve giusto per fare la quota giusta per per le vostre giocate giocate l'over 2 e mezzo a 1 e 25 ci mancherebbe però se qualcuno punta a fare quelle cifrone no e ci sono quelli che giocano dieci partite con cinque euro vinco quattromila euro e poi ti bestemmia perché ne ha sbagliata una che è sempre quella che pagava meno va a prendere quella magari da 3 e poi sbaglia quella a 1 e 0 6 che tiri giù tutte le i santi ti trasformi in mosconi direttamente comunque ragazzoli queste sono le mie proposte per le gare di domani anzi di oggi per le gare di oggi a partire dalle 15 con questo kazakhistan irlanda del nord curioso ci sono delle partite che sono allora finlandia danimarca 2 montenegro bulgaria 1 irlanda olanda 2 sono le tre partite e direi anche lituania serbia 24 partite che puoi giocare la fissa e globalmente potrebbero darti anche qualche piccola soddisfazione perché mettendola assieme pagherebbero 5 volte virgola 56 la posta che mi sembra un bel prendere quote better delle 5 del mattino più o meno quindi poi non lo so magari durante la giornata cambiano però mettendo assieme queste quattro partite ci possono stare e giocando il 2 viene una quotina interessante ve lo buttate lì e ragazzi proprio lanciate così come lanciare i dadi per il resto le altre sono troppo scontate come grecia gibilterra che è ingiocabile a 1,01 uno non la giocano ne vale la candela cioè giochi un euro per vincere un euro e 01 giochi 10 euro per vincere 10 euro e 10 centesimi 100 euro per vincere un euro anche no cioè non è che vincere giochi 100 ti danno un euro ti danno 101 se vinci hai speso 100 euro te ne danno 101 non avrebbe senso detto questo io vi saluto vi ringrazio adesso andiamo a parlare madonna devo parlare della nazionale italiana però pensavo peggio visto gli highlight pensavo molto molto peggio però non si può non si può parigiare con la macedonia ci vediamo dopo ciao